Oggi voglio mostrarti una distribuzione Linux molto particolare, perché si tratta di una distribuzione live, che gira direttamente da CD o chiavetta USB, ed è utilissima anche se sul tuo computer usi solo Windows, perché è munita di tutti gli strumenti che ti servono per il recupero di dati e password. In questo video vediamo 5 modi in cui il sistema RSVC-CD può esserti utile. Metti caso che hai un computer con su Windows, che usavi tempo fa, e per sicurezza ci avevi messo una password. Ora però questa password non te la ricordi più. Come fai a utilizzare di nuovo quel computer? Hai un computer col sistema operativo messo così male che non ti parte più, e vuoi recuperare i tuoi dati prima di formattarlo. Come fai senza smontare l'hard disk? Oltre che per un utente Windows, System RSVC-CD è molto utile soprattutto se usi Linux. Considera questi scenari. Hai un computer con su installati sia Windows che Linux, ma con il solito aggiornamento di Windows hai perso il bootloader di Linux, e ora il tuo PC fa il boot solo più su Windows. Come fai a tornare a fare il boot su Linux senza reinstallare tutto? Non ti piace il software di partizionamento fornito con l'installer della distribuzione che vuoi installare? E allora decidi di partizionare l'hard disk prima di installare la tua distribuzione. Oppure dopo aver visto il mio video sui file system, vorresti creare una partizione NTFS per scambiare dati tra Windows e Linux. Il discorso fatto prima sulla password di Windows può essere tranquillamente fatto anche con la password di Linux. Puoi mettere System RSVC-CD su chiavetta USB usando Rufus come avevamo visto nel video di installazione di Ubuntu Mate, quindi ti risparmio l'operazione. Come puoi vedere, ora sul PC su cui avevamo installato Ubuntu Mate parte direttamente Windows, senza chiedermi se fare il boot su Linux. E una volta avviato Windows, ecco che per l'utente è felice una password, che ovviamente non ricordo. Quindi, metto la mia bella chiavetta USB con su System RSVC-CD, ma prima di fare il boot da chiavetta, visto che ho un firmware UEFI, devo disabilitare il secure boot. Visto che non esiste una standard, il modo per disabilitare il secure boot sul tuo computer potrebbe essere diverso dal mio. Se invece hai un firmware BIOS, salta pure questo passaggio. Una volta disabilitato il secure boot, ecco che possiamo fare il boot da chiavetta senza problemi. Avviamo pure usando le opzioni di default. Ecco, qui vedi scritto che per scegliere il layout di tastiera bisogna scrivere SetKMap e per avviare l'ambiente grafico bisogna scrivere StartX. E visto che vogliamo fare entrambe le cose, scrivo SetKMap e seleziono la tastiera italiana. E ora non resta che scrivere StartX per avviare l'ambiente grafico. E ora possiamo iniziare. Io direi di togliere subito la password di Windows e per fare ciò mi serve sapere come si chiama la partizione di Windows. Quindi, avvio Gpart ed è che mi mostra la tabella delle partizioni. Bene, vedo che la partizione Windows si chiama devsda3. Ora, per montare la partizione, ti ricordo che a differenza di Windows, dove le partizioni hanno una lettera di unità tipo C2, D2, eccetera, sotto Linux le partizioni vengono montate in una directory detta MountPoint. Per montare la partizione, dicevo, occorre creare il MountPoint, quindi creare la directory MnT Win col comando mkdir. Ti faccio notare che il nome che dai al MountPoint è totalmente arbitrario, ma per convenzione i MountPoint temporanei vengono creati come sotto directory di MnT. Ora, visto che Windows si trova in una partizione NTFS, il comando per montare la partizione NTFS è NTFS 3G e come parametri gli do per prima il device, quindi devsda3 che avevamo visto prima, e per secondo parametro il MountPoint, quindi MnT Win, che abbiamo appena creato. A questo punto, il comando per resettare la password di Windows si chiama chntpw. E come vedi dalla documentazione, c'è un'opzione MnU per selezionare l'utente a cui resettare la password, e poi richiede il SAM file, cioè il file SAM che contiene le password degli utenti. Quindi, andiamo a dargli i parametri giusti. Visto che voglio cambiare la password all'utente free, metto l'opzione MnU Free. E poi il file SAM si trova, relativo al MountPoint, in Windows System 32, anche su Windows 64 bit, non ti preoccupare, config SAM. A questo punto, vedo che l'opzione 1 è quella di resettare la password, quindi premo 1. Poi per uscire, premo Q. Gli dico di scrivere le modifiche, e ci siamo. Smonto MnT Win col comando UMount, e riavvio il computer. Tadà! Ecco che posso di nuovo accedere a Windows senza password. Ok. Ora vediamo come copiare dati tra una partizione Windows o Linux non fa differenza, e un computer remoto. Per prima cosa, creo il MountPoint della partizione locale. In questo caso, quella di Linux. E la monto col comando Mount. Poi creo il MountPoint remoto. Facciamo finta che il computer remoto sia Windows, accessibile con l'indirizzo IP 192.168.12.26, e abbia una cartella condivisa su cui andremo a copiare i file. Per prima cosa, vedo quali cartelle condivise ci sono sul computer remoto, utilizzando il comando smbclient-l. E vedo che c'è una condivisione chiamata Free Home. Ok, sto trassando un attimino qui, perché il computer remoto sta utilizzando Linux con Samba, ma è lo stesso protocollo utilizzato dalle cartelle condivise Windows. Creo il MountPoint su cui andrò a montare questa cartella condivisa, e la monto col comando Mount. Devo specificare l'opzione "-tchiefs", per dire a Mount che si tratta di una condivisione Windows. Il protocollo SMB utilizzato dalle condivisioni Windows per un breve periodo era anche conosciuto col nome Chiefs. Complicato, lo so. Poi, barra barra, l'indirizzo IP, barra e il nome della condivisione. Come ultimo parametro, metto il MountPoint. Anche se non c'è una password per la condivisione, ti verrà chiesta, basta che premi invio. Ora che sia la partizione locale che la cartella remota sono state montate, puoi copiare i file da una parte all'altra. Guarda, puoi farlo anche usando il file manager graphic in questo modo. Ora, per esempio copio il video di BigBakBunny da una parte all'altra, ma ovviamente puoi copiare tutto ciò che ti serve. Molto bene, ma mettiamo caso che invece che una cartella condivisa Windows sia un PC con Linux. Allora, smonto il MountPoint remoto e vado a montare la home dell'utente free utilizzando il protocollo SSH col comando SSHFS, nome utente, chiocciola, indirizzo IP, due punti, dai rettori da montare. E come ultimo parametro, sempre il MountPoint. Se è la prima volta che ti connetti SSH ad un altro computer, ti viene fatta questa domanda. Basta che rispondi yes. A questo punto metto la password dell'utente free del computer remoto ed ecco che posso trasferire file come prima. Ora, smonto solo il MountPoint remoto. Quello locale mi serve ancora perché, se ti ricordi, questo computer non faceva più il boot su Linux, perché è stato cancellato il bootloader group 2. Quindi ora andiamo a rimettertelo. Faccio un bind mount delle directory proc, dev e sys. Cioè le directory proc, dev e sys vengono viste anche su mtlinuxproc, mtlinuxdev, mtlinuxsys. E questo mi serve affinché funzioni il chroot. Faccio il comando chroot col comando chroot punto, dove il punto indica la directory ricorrente, cioè mtlinux. Chroot vuol dire che ora il computer pensa che la directory dove ho fatto il chroot sia quella principale. E quindi ora è quasi come se stessimo usando Ubuntu, visto che abbiamo fatto chroot sulla partizione di Ubuntu. A questo punto reinstallo group 2 col comando group install devsda, dove devsda, ovviamente, è l'hard disk dove installare il bootloader. E giusto, mi sono dimenticato di montare l'efi system partition. Premo ctrl d per uscire dal chroot. Non mi ricordo come si chiama l'efi system partition, quindi potrei guardare con gparted, oppure posso usare il comando fdisk-l che mi lista tutte le partizioni. Ed ecco che vedo che l'efi system partition si chiama devsda1. Quindi, vado a montare devsda1 in boot-efi e rifaccio il chroot. Ora l'installazione di group va a buon fine. Do anche il comando update group per popolare il menu. Esco dal chroot, smonto tutto e riavvio. Cosa? Si sta avviando ancora solo Windows? Ok, non perdiamo la calma. Adesso group è installato, ma semplicemente non è il default. Quindi possiamo andare nella configurazione uefi e selezionarlo. Saresti tentato di dire che è group x64.efi. E forse per ora potrebbe funzionare. Ma in realtà il vero file di group 2 è shim x64.efi, che è compatibile col secure boot. Ricordi che l'abbiamo disabilitato inizio video. Bene. Ora, fatto il boot su Ubuntu, e proviamo a reinstallare group da qui. Chissà se cambia qualcosa. L'unica differenza rispetto a quando eravamo nel chroot è che qui i comandi vanno preceduti da sudo, perché vanno eseguiti come root. A questo punto do il comando efibootmgr, che mi dice quali voci ci sono nel boot menu efi e l'ordine con cui vengono provate. Vedo che la voce numero 9 è Ubuntu, e la voce numero 9 è la prima del boot order, quindi ora siamo a posto. Non fosse stato così avrei dovuto cambiare l'ordine, sempre usato efibootmgr. Rialaviamo il computer, ed ecco che ora possiamo di nuovo scegliere se avviare Ubuntu oppure avviare Windows. Ok. Torniamo al nostro system rescue CD per creare una partizione ntfs per scambiare dati tra Windows e Linux. Avviamo gparted e ora, in modo grafico, andiamo a ridimensionare la partizione Windows togliendogli 32 giga dal fondo. E andiamo a creare una partizione ntfs nello spazio appena liberato. Applichiamo le operazioni ed il gioco è fatto. All'inizio del video avevamo resettato la password di Windows. E se volessi resettare la password di Linux? Montiamo la partizione Linux come di consueto oramai e andiamo a modificare il file etc.shadow che è quello che contiene le password criptate. E se aprissi il file giusto magari funzionerebbe? Il file è sì etc.shadow ma relativo all'amount point sempre. Ora vado sull'utente free e vedi che tra il primo carattere di due punti e il secondo carattere di due punti c'è la password decryptata. Bene, basta cancellarla. Io ho usato Vim per modificare il file perché mi ci trovo ma se vuoi qualcosa di semplice puoi anche usare il dettaglio grafico fornito qui. Come al solito smonta il file system, riavvia e funzionerà tutto. Prima di finire il video voglio darti ancora un bonus. System Rescue CD contiene anche il software Test Disk che puoi usare come ultima spiaggia per tentare di recuperare file cancellati o addirittura file da partizioni cancellate. Dico ultima spiaggia perché le probabilità che riesce a recuperare file cancellati è molto bassa ma comunque tentare non nuoce. Vediamo per esempio come recuperare un file cancellato dalla nostra partizione ntfs di scambio. Solito FDisk-L per vedere la tabella delle partizioni che non me la ricordo mai. Creo il Mount Point per montare la partizione Linux. Recuperiamo il file cancellato dalla partizione ntfs di scambio e lo andiamo a salvare nella partizione Linux. Avviamo Test Disk poi non ce ne frega nulla del log andiamo a selezionare l'hard disk ha riconosciuto che è in formato GPT bene a questo punto selezioniamo File System Utils selezioniamo la partizione 6 che è quella che avevamo creato per scambiare dati tra Windows e Linux e selezioniamo Undelete da sotto. E ora ci viene mostrata la lista di file cancellati e recuperabili. In questo esempio ce n'è solo uno ma lo tratto come se fossero molti. Quindi premo A per selezionare tutti i file C maiuscola per copiare i file selezionati. A questo punto seleziono la directory dove andare a salvare il file recuperato. Fatto! Ora premo Q per tornare al menu precedente seleziono Quit fin tanto che non esco da test disk. Diamo un LS o un LL per vedere che il file è stato effettivamente recuperato. Concludendo System Rescue CD può fare anche più di quanto ti ho mostrato. Per esempio potresti trovare utile il software FS Archiver per clonare una partizione in un file compresso oppure il software DD Rescue che tenta di leggere dispositivi danneggiati fisicamente tentando di oltrepassare gli errori di lettura di modo da recuperare il più dati possibile. Ma in questo video ho voluto farti vedere gli utilizzi che nella mia esperienza sono i più frequenti. grazie dell'attenzione ti ricordo di iscriverti al mio canale attivare la campanella e che trovi i miei video sia su YouTube che su Library trovi tutti i link in descrizione al prossimo video ciao sotto Linux le partizioni vengono montate in onda D e che trovi i miei video